ok guardiamo guardiamo allora siamo una formica oddio una formica stranissimo una formica delle impronte c'è una rana morta ok un papagallo che ha preso la rana non so cosa sia oddio è un serpente oddio oddio davvero bellissimo cos'è una lotta tra animali tipo che domina il branco non ci credo non ci credo snake metta che sono i tre remake no non ci credo non ci credo oddio no metal gear solid aspetta no non c'è scritto tre snake eater ma cos'è quello di tipo delta segno delta cosa vuol dire aspetta c'è qualcos'altro bella immagine stupenda ma che cosa abbiamo appena visto che cosa abbiamo appena gustato metal gear solid 3 il remake ma stiamo scherzando guarda lasciare like assolutamente porca puttana porca troia cazzo le mine oh roboid